E' presentato a Roma in Senato l'itinerario della bellezza 2024, un progetto ideato da Confcommercio Marche Nord per promuovere il turismo nei piccoli borghi. Andiamo allora alla scoperta con Antonello Travaglini. Non solo città d'arte, l'Italia da scoprire e ammirare passa anche dai piccoli borghi e anche quest'anno Confcommercio Pesaro e Urbino Marche Nord ha presentato in Senato l'itinerario della bellezza 2024. Giunta alla settima edizione l'iniziativa promuove un viaggio dal mare alla campagna attraverso gli angoli più suggestivi di un territorio. E' un progetto di promozione turistica che arriva dal territorio, hanno aderito finora 25 comuni, tra questi ci sono delle new entry, sono borghi meravigliosi, Acqualagna, la capitale del Tartufo, Borgo Pace dove si trova l'abbazia di San Michele Arcangelo, Macerata Feltria, Carpegna e Moltegrimano Terme. La nostra Italia è ricchissima di straordinarie bellezze. Un progetto che coinvolge anche le aziende locali per un nuovo modello di sviluppo economico basato sulla bellezza. Un progetto che prevede la realizzazione di tante iniziative di promozione e comunicazione turistica in Italia e all'estero per valorizzare appunto il mondo dei borghi, per un turismo di qualità, un turismo sostenibile, cercando di ipotizzare insieme agli amministratori di questi comuni un nuovo modello di sviluppo economico basato sulla valorizzazione della bellezza. Bellezza culturale, ambientale e no gastronomica, perché ricordiamo che siamo la terra anche del tartufo tutto l'anno.